Ciao Daniela, ciao Paolo, ciao a tutti i nostri amici e amiche dello spazio delle interviste dedicati agli speaker dei nostri The Workspace, i meetup che organizziamo con AdocMinds. Ciao Paolo, ciao Enzo, oggi siamo appunto qua con Paolo Caramanica, signor software developer che sarà lo speaker del meetup The Workspace dal titolo Sviluppo web, un occhio alla sicurezza. Paolo, allora, prima di parlare del tuo prossimo talk, vogliamo sapere un pochino di più su di te e sulla tua carriera. Puoi raccontarci un po' come hai iniziato a programmare e come questa passione poi è diventata il tuo lavoro? Sì, allora, ho iniziato a programmare all'età di circa 11-12 anni con il Commodore 64 e il suo linguaggio basic. Il mitico Commodore 64 che, almeno parlando con altri sviluppatori, ho scoperto che è, diciamo, un po' una sorta di rito d'iniziazione per tutti i dev della mia generazione. Un po' per tutti i ragazzi anni 80, sviluppatori, no? Parlo per esperienza, non da sviluppatrice. Eh sì, poi, diciamo, dal basic sono passato ad altri linguaggi, prima il Pascal, poi il C, il C++, e questo sia negli studi che come passione. La vera svolta è arrivata nei primi anni 2000, quando ho cominciato a interessarmi di internet e di web. Ho creato il mio primo sito web e questo ha avuto, diciamo, due importanti conseguenze. La prima è che ho cominciato ad appassionarmi di sviluppo web e quindi ho cominciato prima ad approfondire l'HTML per la creazione di siti statici, poi linguaggi di programmazione veri e propri, sia back-end che front-end, per creare delle vere e proprie web app. E questo, diciamo, è diventato prima una passione, poi successivamente è diventato, diciamo, un lavoro, da prima con dei contratti a progetto, poi come dipendente, successivamente, almeno da una decina d'anni, come libero professionista. La seconda conseguenza è che l'idea, diciamo, di pubblicare dei contenuti potenzialmente visibili a tutto il mondo sul web. Mi ha fatto, in qualche modo, entusiasmare e mi ha fatto nascere in me una seconda passione, quella per la formazione e la divulgazione. Quindi ho cominciato da prima a scrivere degli articoli, dei tutorial, sui argomenti tecnici, diciamo, di cui era appassionato e poi anche questo, diciamo, è entrato a far parte del mio lavoro. Quindi ho fatto da tutor in alcuni corsi dedicati ai dev, ho ottenuto qualche seminario e ho ottenuto diversi talk tecnici sul sviluppo front-end per The Communities Bay. Penso che saremo arrivati ormai almeno una decina. Inoltre, ti occupo di sicurezza informatica, quindi vogliamo capire come sei entrato nel mondo della sicurezza informatica e perché richieni sia un tema importante. Pensi che le aziende le persone viano ad essere il giusto peso? Allora, qualche anno fa ho iniziato a collaborare con Black Swan, un'azienda che si occupa di sistemi di pagamento e di sicurezza informatica. Da prima mi hanno contattato perché avevano bisogno, diciamo, di sviluppare una web app per gestire alcune loro attività interne. Successivamente hanno cominciato a coinvolgermi anche in attività più legate al loro core business e quindi alla sicurezza. Dal momento che io venivo dallo sviluppo, principalmente sicurezza applicativa. E quindi ho cominciato ad appassionarmi anche a quest'altra tematica che poi è entrata, diciamo, a far parte del mio lavoro. Perché è importante la sicurezza? Sicuramente è molto importante perché viviamo nell'era dell'informazione e quindi l'informazione stessa è un bene prezioso da proteggere. di conseguenza è naturale, diciamo, dedicare energie a proteggerla, appunto, occupandosi di sicurezza dell'informazione. Lo so, una risposta, diciamo, banale, scontata, probabilmente tautologica, però questo concetto, per quanto semplice, rischia di non essere chiaro a molti. E parlo sia di utenti che di aziende. E qua mi ricollego alla seconda parte della domanda. Sì, purtroppo non tutti, e parlo sia di utenti che di aziende, danno la giusta importanza all'informazione. Spesso si sentono obiezioni del tipo, vabbè, utilizzo una pasta urbanale per la mia casella email, tanto non ho nulla da nascondere, non ho nemici, a chi vuole interessi entrare nella mia casella. Quando invece sappiamo che molti attacchi, diciamo, non sono rivolti a singole aziende o a singole persone, ma molto spesso, diciamo, vengono effettuati sparando nel mucchio, tristemente noto, ad esempio, dei ransomware negli ultimi anni. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che molti imprenditori, poco lungimiranti, storcono un po' il naso quando si parla di costi indiretti e la sicurezza, diciamo, inevitabilmente ha un costo, ecco qua che il cerchio si chiude. Certo. Dopo questa intervista io vedo già un piccolo di persone che cambieranno la password, password 01. Me lo auguro. Me lo auguro. Speriamo, dai, Paolo. Senti, un'altra domanda, le tue competenze appunto da sviluppatore, ti sono stati utili nelle attività di sicurezza informatica e poi consiglieresti anche idee di approfondire queste tematiche? Sì. Allora, le competenze sviluppatore sono risultate sicuramente molto utile per almeno due motivi. Il primo è che nel testare la sicurezza di un'applicazione, se uno conosce la tecnologia con cui è stata sviluppata, quindi non so, linguaggi, librerie e via dicendo, questo è sicuramente molto utile per individuare potenziali punti deboli di quell'applicazione. Il secondo motivo è che molte attività legate alle verifiche di sicurezza tendono a essere ripetitive e diciamo, a volte anche un po' noiose. Di conseguenza, conoscere un linguaggio di programmazione e saper programmare permette di automatizzare molte di queste attività e di renderle, diciamo, meno noiose e anche meno prone a potenziali errori. Per quanto riguarda la seconda parte della domanda, anche qui la risposta è assolutamente sì, perché molte vulnerabilità applicative derivano spesso dal fatto che vengono commessi degli errori in fase di scrittura del codice o vengono commessi degli errori o non vengono seguiti dalle best practices. Quindi, anche in questo caso, conoscere le tematiche di sicurezza da parte dei sviluppatori è assolutamente utile, direi quasi indispensabile. Adesso una domanda retorica. Mi meraviglierei che rispondessi in maniera negativa, perché ci conosciamo da un bel po' di tempo, però qual è la tua opinione, visto che stiamo parlando pure di community, stiamo in una community, qual è la tua opinione sulle community di sviluppatori? Perché ritieni che siano importanti per un dev? Quindi, se ci potevi raccontare qualcosa in più sulla tua esperienza a riguardo? Sì. Allora, beh, ritengo sicuramente molto importante partecipare alle community di sviluppatori e questo vale sia per i dev e anche in generale a tutte le community, anche per altre tematiche tecnologiche, anche non tecnologiche. Beh, una prova di questo è il fatto che ormai da qualche anno Enzo mi ha coinvolto e mi sono lasciato volentieri coinvolgere nell'esperienza dei community svei. Perché le community sono importanti? Beh, perché rappresentano supporto reciproco, permettono di aggiornarsi, di confrontarsi su eventuali problemi tecnici, quindi di capire come altri hanno affrontato e hanno risolto i problemi che si incontrano e anche restare aggiornati a capire le nuove tendenze. Inoltre, l'aspetto che mi piace sottolineare è che a differenza di quanto molti ancora oggi credono, è importante anche per condividere le idee che si hanno e sulle quali magari si sta lavorando, questo sia per avere feedback, spunti di miglioramento, ma anche e soprattutto per testarle. Sì, anche questo è molto importante, diciamo, la condivisione delle idee, a differenza di quanto molti credono che invece ritengono che vadano tutte assolutamente segrete. Per tutto questo, la partecipazione alle attività di community, diciamo nell'ambito del network, le community svei, posso dire per esperienza diretta che è un'ultima opportunità che consiglio a tutti. Quindi, evviva le community e evviva le community svei. Ci siamo perché poi, per chi leggerà, chi vedrà, non leggerà, vedrà l'intervista successivamente la può andare a recuperare, però fra poco più forse di dieci giorni ci sarà un nuovo tuo talk dedicato appunto alla sicurezza informatica nella nostra community The Workspace. A chi è rivolto e di quali argomenti parlerai? E se vuoi darci una piccola, piccola, mi raccomando, andè prima della struttura del tuo talk. Sì. Allora, nel talk parlerò di sicurezza delle web app. L'argomento è sicuramente molto vasto e non può certo essere esaurito in un talk di un'ora, però cercherò di concentrarmi sugli aspetti salienti. Il talk è rivolto principalmente ai web developer junior, però penso che anche gli altri possano trarne qualche spunto interessante. Per quanto riguarda la struttura del talk, cominceremo con un'introduzione abbastanza generale sulla sicurezza per poi concentrarsi sulla sicurezza delle web app in modo più specifico. Utilizzeremo una web app di esempio in cui ho inserito volutamente alcune vulnerabilità in modo da far vedere qual è il meccanismo di funzionamento di queste vulnerabilità, da quali errori di sviluppo sono causate e soprattutto come porre rimedio. E questa sarà la parte un po' più corposa del talk. Per concludere farò anche una rapida carrellata sugli aspetti un po' meno legati allo sviluppo e più alla parte sistemistica di configurazione, per esempio, di un server web, dei database e via dicendo. Dai, e allora Paolo, noi non vediamo l'ora di collegarci a questo fantastico talk. Grazie mille Paolo per essere stato appunto dei nostri. Noi diamo appuntamento al prossimo Meetup sviluppo web con un occhio alla sicurezza. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri canali e soprattutto all'evento. Trovate tutti i riferimenti su The Community Space, www.theworkspace.dev e la sezione workspace su ad hocmines.com. Ciao a tutti, grazie. Grazie a voi, ciao a tutti. Ciao.